Preoccupante aumento dei nuovi contagi da Covid-19 in Campania. Per la prima volta nella giornata di ieri 28 luglio, la regione campana è risultata la seconda in Italia per numero di nuovi positivi, dietro solo alla Lombardia, sin dall'inizio principale focolaio della pandemia. 29 nuovi contagiati da coronavirus su un totale di circa 1.500 tamponi. È il dato più alto da fine aprile per la Campania. E se si osserva l'andamento della curva epidemiologica delle ultime settimane, si nota un inesorabile e costante aumento dei nuovi casi, la cui provenienza si allontana sempre di più dai focolai circostritti individuati dall'unità di crisi della regione, come quelli di Mondragone, Salerno e Scampia. Nell'ultima settimana sono infatti decine i casi di isolati sparsi in tutta la regione e individuati grazie al contact tracing e a tamponi di controllo effettuati prima di ricoveri in ospedale, concentrati in particolare tra le province di Napoli e Salerno. Soltanto Benevento sembra al momento esente dalla nuova andata di contagi. E anche l'area vesuviana torna a preoccuparsi con nuovi casi a Castellammare, Ottaviano e gli ultimi individuati in ordini di tempo a Torre Anunziata e Bosco Tre Case. Proprio oggi Conti ha riferito alla Camera in merito alla decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza in Italia fino al 31 ottobre. Una decisione inevitabile, ha spiegato, criticando duramente l'opposizione per le notizie false e duffiose sui social. Questo non implica alcun nuovo lockdown ad agosto. Gravi sono le speculazioni. Il Comitato Tecnico Scientifico nel frattempo resta in allerta anche per il rientro a scuola previsto il 14 settembre. Ieri il Ministro Azzolina ha confermato la data prevista e ha rimandato a fine agosto maggiori informazioni sulle misure di sicurezza che saranno adottate in base all'andamento della diffusione del contagio. L'emergenza non è finita e in Campania si sta pericolosamente tornando agli indici di contagiosità avuti durante il massimo picco di diffusione. 116 nuovi positivi negli ultimi sette giorni, 60 la settimana precedente e soltanto 29 quella prima. L'unica consolazione è che, complice il caldo e l'indebolimento del virus, la maggior parte dei nuovi casi è asintomatico, sebbene i reparti in terapia intensiva di tutta la regione svuotati a metà luglio siano tornati ad ospitare i pazienti in gravi condizioni di salute, adesso 4 in totale in Campania. Grazie 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 Grazie